Ciao amici, allora vado a recensire l'ultimo numero di Giulia che è uscito in edicola, il numero 305, Libri rari. Mi scuso per la voce ma purtroppo io porra freddore, ho sempre conseguenza, mi viene insomma mal di cuore, tipo mal di cuore. Vabbè, a parte questo, voglio dire una bella storia, quella storia scritta da sempre soggetto Giancarlo Berardi e sceneggiatura Giancarlo Berardi e Maurizio Montero, disegni Paolo di Clemente, la cremocchina di Cristiano Spadoni. Allora, praticamente questa storia che vede Giulia, praticamente, nel campo della letteratura dei libri, peichettricamente c'è una mostra di libri rari dove dei ladri, esperti, molti professionisti, addirittura che si lanciano, potete vedere la scena nel, con un aereo in pratica, a versione Carver, chiamato, si lanciano, teoricamente, vedete qui c'è tutta la scena del furto, per rubare questi libri rari, perché ci sono due collezionisti, completamente diversi, che, teoricamente, hanno la, in pratica, si scontrano ognuno con stili e diversi e, alla fine, vabbè, insomma, si scoprirà chi è il colpevole. Allora, che dire, qui certo Giulia è tornata a essere una meravigliante, ecco, c'è il ritorno di Baxter, che doveva sempre superare, diciamo, quel suo problema dopo la morte di Lizza, avvenuto nel numero 292, e quindi c'è sempre questa continente. La cosa, ecco, m'antecipo subito, non c'è in questo numero, per dire, dico io, dico io, per fortuna non ritorna sempre la macchietta, anche se viene citato l'Ettore, ma non c'è l'incubo di Giulia. Una cosa che ho notato, non hanno inserito l'incubo di Giulia. Però, questo, perché con la storia, sì, è carina, è una bella storia, ha disegni lineari, tutto nel campo dei libri, vengono citate molte opere, c'è un'altra macchietta di scontro con Anna al Web, non ci sarebbe molto da dire. Non è una storia eccezionale, eh, devo dire, sì, non è stata scritta bene, ma, insomma, Giulia è così, a queste alte e basse, ormai prendere o lasciare. Infatti, alla storia, ho dato un sei e mezzo in totale, alla fine. Diciamo sette, perché c'è, parla dei libri, io amo i libri, quindi, diciamo, diamogli un sette. La cosa strana che ho notato, che, ad esempio, a parte che, va bene, quindi ormai Emily, la sua governante di colore, non viene quasi più citata, non c'è, e lo ripeto sempre, il bambino che lei aveva adottato a distanza, che credo che si amasse un po' io, dopo, è vero anche Giulia che non la prendo assiduamente, quindi l'ho ripreso da poco, e quindi non so se nei numeri passati c'era, però non ho rivisto questo bambino a Bebe, credo che si chiama Bella Bebe, si chiamasse. Non vado, appunto, a ripetermi ogni volta che manca questa sua verba ormai criminologa, anche perché poi qui, tricamente, di criminologo c'è poco e niente, perché alla fine, sì, se possiamo dire solo la fase, vogliamo essere proprio, qui, ignori, narcisistica, sul collezionismo, e infatti qui interviene, a un certo punto, proprio un discorso, non me ne vogliono gli amici collezionisti, proprio di fissa, no? Cioè nel senso che tu vai a vedere, fatti lo sconto tra questi due personaggi, c'è una bella frase, adesso se la ritrovo, sperando che non sia... Aspettate. Ecco, i due personaggi sono Weston e McGregor, sì, sempre interessante il diario di Giulia, che scrive, no? Che fa da intrammezzo e sono i pensieri e cerca di spiegare anche quello del suo pensiero, ma anche di fare da tramite, tra le scene, dice, non differenza con questo Westman, McGregor, e lui dice, non si affogano i gioielli in mezzo alla bigiotteria, cioè fa vedere proprio la differenza di collezionismo, cioè di colui che prende tutto, e infatti questo Westman collezionava tutto, fa vedere che a un certo punto sulla sua biblioteca, addirittura c'è una scena anche qui ben fatta, lineare, in cui lui addirittura usa un tappeto tipo di gomma per non disturbare con i passi, diciamo, con le vibrazioni, i suoi libri, però lui a un certo punto, ecco vedete, in questa specie di sacralio, questa è la collezione di, in mezzo di Westman, veramente immensa, attricamente, però dice, sapete, dice, quante sezioni contiene edizioni conosciute di Sandro Dumas, ho un'idea di quanti siano, però lui aveva anche edizioni economiche, mentre McGregor aveva soltanto quelle, diciamo, di grandissimo valore, e quindi con la frase non si soffoca l'oro, nella bigiotteria, molto interessante, poi per il resto sono state lineare, finale, diciamo, non proprio scontata, anche se sono scene che si potrebbe capire come va a finire, però niente, nulla dire, ripeto, gli do, c'è, sì, dopo c'è un certo punto, ma non qui veramente da esploderare, e non dico niente, insomma, comunque è una storia che vi consiglio di leggere, c'è una storia chiaramente da buttare, però ecco, non è in quelle storie indimenticabili, si leggono, ripeto io perché c'è il titolo Libri Rari, ma nulla più. Va bene, con questo niente, vi saluto e ci vediamo con il prossimo video, un abbraccio.